Peter Marcias è tra i protagonisti delle giornate degli autori del Festival di Venezia. Il regista sardo firma il cortometraggio L'Unica Lezione. Per l'occasione Marcias ha rispolverato un filmato dell'unica lezione che Abbas Chiarostami, maestro del cinema aereo agnano, tenne proprio a Cagliari, all'università. Il corto è frutto del laboratorio con una ventina di ragazzi del CELCAM dell'Università di Cagliari.